tipo di capelli che si staccano dei dread e sono tutti qua davanti come se io avessi capelli corti tutte le volte che provo a nominare cenerentola 3 o aladin 4 la gente mi guarda male perché non sanno che esistono e quindi faccio un video dove li elenco tutti quanti e vi spiego di che cosa parlano così potrete apprezzarli anche voi o odiarli giustamente quelli che sono interni i classici disney beh non li nominerò nemmeno aladin 2 il ritorno di giafar cercando di non farvi spoiler su aladin giafar viene risvegliato e richiamato da un uomo comune ovviamente giafar si rifiuta di esprimere i tre desideri che sono canonici di tutti i geni quindi cercherà di direzionare questi desideri verso la sconfitta di aladin l'animazione non è un granché anzi in generale il cartone animato è abbastanza uno schifo direi che non vale necessariamente la pena di guardarlo anche perché a fare il genio non è più robin williams aladin 3 il re dei ladri questa è abbastanza azzeccata in realtà riprende la trama di alibaba e i 40 ladroni finalmente una cosa sensata le canzoni tornano ad essere decenti il genio torna ad essere fatto da robin williams la qualità si rialza un pochettino rispetto al precedente film stavolta si parla del padre di aladin che proprio come lui è un ladro ed è uno dei famosi 40 ladroni aladin 4 jasmine questo assolutamente non vale la pena di vederlo però casomai avesse una passione per jasmine potreste tranquillamente godervelo il film non vede fra protagonisti quasi nessuno dei personaggi che più apprezziamo ha solamente jasmine e iago che dovranno recuperare un cavallo atlantis 2 non c'è molto da dire riguardo tutto questo e la trama praticamente è una serie di piccoli problemi in cui dovremo ritrovare i protagonisti e c'è un cane di lava bambi 2 come fare un sequel per bene grazie la madre di bambi muore come sappiamo nel primo film ma dopo la morte abbiamo uno stacco gigantesco dove si passa a bambi adulto e tutto ciò che sta in mezzo non è mai stato raccontato e qui con un'animazione più che decente ci verrà raccontata la storia in modo anche molto coerente al classico originale di come bambi nella sua infanzia affronterà il lutto della madre con un padre estremamente freddo e si vero cenerentola 2 carino ma niente di particolare cenerentola si deve adattare alla vita al castello ma ovviamente questa poveretta è stata abituata alla vita con Lady Treming è stata abituata a fare la serva e quindi a castello non è in grado di abituarsi a questo nuovo stile di vita preferisce cucinare per conto suo e preferisce organizzare cose che coinvolgano non solo l'aristocrazia ma anche i più poveri nel frattempo jack jack si renderà conto del fatto che il suo non essere umano potrebbe essere effettivamente un problema e quindi chiederà alla fatta madrina di poter diventare umano per non parlare dell'incredibile storia d'amore che convolgerà Anastasia che finalmente dovrà alzare un dito meglio nei confronti di sua madre è una storia d'amore per lucifero se cenerentola 2 era carino cenerentola 3 è una delle cose più belle che la disney potesse fare a livello di animazione ci troviamo 10 spanne sopra cenerentola 2 cenerentola 2 era carino questo è un'opera d'arte in confronto ovviamente non è ai livelli del classico originale come qualsiasi sequel ma la trama è davvero interessante Lady Treming la matrigna di cenerentola riesce ad ottenere la bacchetta della fatta madrina scoprendo l'esistenza della fatta madrina viene a sapere che in realtà cenerentola dal suo punto di vista ha imbrogliato per la scarpetta e per andare al ballo e quindi decide di usare la bacchetta per tornare indietro nel tempo tornare nella favola originale tornare nel classico originale e fare in modo che la scarpetta si adatti alla misura del piedi di Anastasia e in modo da distruggere la copia che era nelle mani di cenerentola modificando poi i ricordi del principe per fare in modo che il principe non possa ricordare che in realtà fu cenerentola a ballare e creando quindi un mondo alternativo in cui lei ha il pieno dominio preparatevi un film di quelli con le canzoni belle e estremamente interessanti il mio cuore sa che il principe tra non molto tempo ritornerà con me siamo una cosa sola io non posso stare qua non importa che farò né quanto tempo ci vorrà Frozen Fever che significa un raffreddore terribile mentre aspettiamo l'uscita di Frozen 2 perché uscirà ecco un corto che racconta ciò che succede ad Anna ed Elsa durante la primavera successiva al film di Frozen dopodiché abbiamo l'avventura di Olaf che ovviamente è ambientata a Natale e rivede tutti gli stereotipi che potevamo avere su Frozen della trama non si sa ancora quasi nulla esce quest'inverno a Natale con Coco andatevelo a vedere Hercules 2 in realtà è una serie e non un solo film conoscete benissimo la canzone di Filottete in cui Hercules cerca di imparare ad essere un eroe bene ecco la serie dove passo per passo Hercules cerca di diventare un eroe incontrando vari miti e varie idee dell'antica Grecia pensate di questi sequel quali vorreste vedere? quali avete già visto? esprimete le vostre opinioni nei commenti c'è una parte 2 e dovrebbe trovarsi qui vediamo se riesco a infilarcela se ancora non c'è probabilmente perché uscirà fra qualche giorno se invece c'è perché non ci avete ancora cliccato sopra? no, non ho intenzione di dire altro per tutto questo video per favore